Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo primo video dove registro tutto Non so se si vedrà la mia webcam E mi si vedrà il mio viso brutto Allora Oggi siamo su... com'è che si chiama questo gioco? Si chiama, vediamo un attimo, si chiama Sonic.exe PC Port Quindi un gioco horror, non lo finirò Cavolo, però se lo finisco sarebbe davvero carino Ok Aspettate un attimo, tutto registro? Tutto registrato? Ok Siamo su Hill Siamo su Hill? Sì, siamo su Hill Oh C'è Tutto a posto? Sì Controllo di solito la registrazione per vedere se funziona tutto Devo dire che sta funzionando tutto per fortuna Hello, Rainey What the f... Non l'avrei mai detto che ci fossero questi eh, non l'avrei mai detto, sì perché io di Sonic li ho giocati eh Ecco c'è anche la risata, come al solito qua la risata non ci manca molto Welcome back, si bentornato, bentornato dove? Sì questo gioco, l'ho giocato tutte le volte Non l'ho giocato, non l'ho mai detto, non l'ho mai detto Certo, certo me lo ricordo Certo, certo Raga, me lo ricordo Vabbè, lasciamo stare How about a game? For all time's sakes Ehm, ok, va bene Holy shadow Oh mio dio, oh mio dio Oh Non l'avrei mai detto Cioè, che sarei caduto a terra E adesso? Oh Buongiorno Come va la vita No, no, no Non ho una cosa zi No, occhio Oddio Oddio, che schifo No, ho visto qualcosa di bruttissimo Let's begin Bejun Bejuan Perché avevo c'è scritto una nulo Chi l'avrebbe mai detto? Allora, vediamo Oh mio Dio, voi non lo vedete Knuckles è morto Il dottore è morto E mi sa che tra l'altro Da quanto scarso sono Sì, lo so, sono un'idiota, però Vabbè, lasciamo stare che è meglio Cioè, boh Io non lo so, io controllo di solito La registrazione, non sempre, ma Voi non so se la vedete la vita Ma poi Cioè, ho voluto avviare solamente un video Ma a quanto pare No, cioè, volevo avviare una live Ma a quanto pare non me la fa avviare Quindi vada in un video normalissimo Allora, sto giocando io, quindi Non è che sto vedendo un video Sto giocando Come vedete le mie skill Bellissime Aspetta Quella è cream Quella è seriamente cream, però sembra diversa Non lo so Non cheating Io non ho fatto un'idiota Una voce un po' più Un po' più acuta, non, eh? Vabbè, lasciamo stare Cos'è che sta piovendo? Vabbè, non capisco Tanto qua c'è un po' di fulmini C'è tutto qui E ora? Cos'è? Get out Eh sì, però Non mi fai a prendere jumpscare Poi tu Non ti muovi perché hai paura? Vabbè, ti controllo io che è meglio Sei sotto il mio controllo Zitto e cammina Vabbè, se sembro la mamma Quando devi andare a scuola Un uccello mi sembra un pochino troppo rosso Per i miei costi Enter What? Ciao Che bello sei Vabbè Saltiamo tutto E ora si cade giù Oh mio Dio, sto per cadere giù Jumpscare inco Cioè, raga Io penso che ora c'è tipo un jumpscare incoming O meglio qualcosa che potrebbe far paura Tanto io l'ho già giocato sul gioco mio Chi è quello? Ok Ok Tu 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 Il gioco fa tutto luce In questo gioco non c'hanno la Questo gioco non ha la fisica Letteramente non ha la fisica Tira Ok, ce l'ho fatta Enter Oh mio Dio Cos'è? Cos'è? Cos'è quello schifo? Schifo sono io perché sono caduto Raga, è impossibile Cioè, io mi sono bloccato qui perché non riuscivo a fare proprio Non riuscivo proprio a giocare perché è troppo complesso Intanto Tails Non ha capito perché non ha Le code E me lo chiedo Raga, non ce la faccio Cioè, si blocca Questo gioco un po' Si blocca Niente E cado giù, ciao Voi non so se stanno vedendo le mie skill Proprio Bellissime Ma Sonic ha qualcosa in Vabbè Sonic ha qualcosa Nel Nel suo Perché guarda Io vi dico La finestra La finestra mi si è chiusa Ma veramente mi si è chiusa Veramente raga Io non sto scherzando Posso continuare in realtà il video Non so cosa fare in realtà Magari c'è qualcosa di da fare Non so O adesso mi si chiuderà qualcosa Si è aperta una finestra Aspetta Adesso aspettate che adesso la cattura sta finestra Provo un attimo Cattura la finestra Cattura la finestra Una esistente Che Dov'è? Dov'è? Quella che mi si è appena aperta Non c'è? Ah eccolo No Qual è? Non lo so Vabbè Un esistente C'è? Quella esistente che mi si è appena aperta Voi magari non si dite l'audio Ma se lo sentite Bene per voi Ma Non ci chiede Ma magari non lo sapete Ma questo qui è Acerfail C'è una Come si dice C'è C'è E questo qua invece è il remix del post finale di Sonic.plode stream Di S è uguale Ragazzi 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 io lo so perché C'è Durante lo schermo Aggiungi uno Un esistente Oh mio Dio Cos'è sta roba Ma sì Ragazzi Vedete una macchina Aspetta Non è che si leva Dov'è che si sta Ok Lo porto Com'è che si sta Un'ora di questa finestra Vabbè Cercando Tolgo la music C'è tolgo il gioco And Ragazzi non ci sto capendo niente su sti streaming Allora Egman Egman Secret Base Metto lo schermo intero Così Si vede qualcosa Microsoft Microsoft Edge Non capisco nulla Ragazzi È la prima volta che faccio dei video così A schermo A schermo Winster Microsoft Sì Mi sono rotto Di farvi vedere quella cosa Nulla Annulla Ok Scusa Ma Non posso Non posso farvela vedere Mi dispiace parecchio Allora Vediamo 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 Ehm Sun Simulator Vai 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 Non intendevo Schermo intero Ma che se ne importa Aggiungiamo La finestra Adesso vediamo se la proviamo Allora Annulliamo Cos'hanno fatto Prima di iniziare il video Cattura l'audio in uscita Cattura lo schermo Cattura Boh Ah Seriamente Non so cosa fare Un attimo Una fonte Ecco fatto Allora Allora Aggiungiamo Un'esistente Io non so Che cosa Devo fare Ma Io vedo solamente Uno schermo nero Vabbè io Vabbè appena Copino Sto video Dovrò per forza Capirci qualcosa Perché Non ci sto capendo Nulla Nulla Non so se lo state vedendo qualcosa Ma Non so Aspetta E se lo faccio a schermo Non schermo intero Full screen No Alleluia Qui devo Quindi devo Aspettate che devo Abbassare lo schermo Devo fare così Ah ecco perché non si vedeva Perché C'era la mia webcam C'è Ha coperto la mia webcam Allora Mettolo qua Perfetto Ora dovreste vederlo Ora dovreste vederlo Se state vedendo il gioco C'è tutto dopo il San Simulator In cui tu puoi che ha nato Battaglia personalizzata Di San Di San Vabbè Insomma Che devo fare Ah Shit Come è che gioco Allora Faccio così Per divertirmi Aspetta Com'è che si esce da qua Come si esce Al menu Menù Settings Tutto al 100% Strano Va bene Va bene ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Il mio primo video Caruccio Almeno Così non mi rompete Spero se vi è piaciuto Così lasciate un bel mi piace Se no Un bel non mi piace Se non mi è piaciuto E noi ragazzi Ci vediamo in un prossimo video Sempre che questo video Verrà caricato Perché non lo so Ciao 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 Ciao